Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa 125esima puntata del podcast di Marcosbox. Rieccoci qui in questa nuova puntata del podcast di Marcosbox, come sempre a commentare con voi le principali notizie dal mondo del software libero open source. Questa settimana sarà una puntata molto breve quella del podcast perché si sa è estate quindi i programmatori così come tutti quanti gli esseri viventi, senzienti, tutto hanno voglia furché di mettersi vicino al computer a prendere caldo, a sudare, a fare edie. Quindi l'estate è fatta per stare al fresco, per stare fuori con gli amici, per cercare di stare il meno possibile davanti al computer a soffrire caldo. Vabbè, iniziamo la puntata. Apriamo questa puntata parlando di Ubuntu con una notizia che farà felici molti di voi all'ascolto, tutti quelli che sono appassionati di audio. Ubuntu 22.10 utilizzerà Pipeware per la gestione dell'audio, quindi anche Ubuntu si presta a sostituire il server audio Pulse Audio in favore di Pipeware adeguandosi così alle altre distribuzioni GNU Linux mainstream come Fiatura Workstation, Arch Linux, anche se Arch Linux ha fatto, mi sembra, qualche settimana, qualche passo indietro, vabbè, ma comunque è quella la strada. Lo switch è già avvenuto, lo switch è già avvenuto nella versione in sviluppo di Kinetic Kudu, che è il nome in codice di Ubuntu 22.10, quindi se scaricate le ultime ISO della versione attualmente in sviluppo, potete già testarlo e beneficiare di tutti quanti i benefici che porta Pipeware. Restiamo in casa Canonical, stiamo in casa Ubuntu con una notizia che molti di voi attendevano. Plex ha finalmente un client desktop per Linux. Perché ho collegato tutta questa notizia al mondo di Ubuntu e al mondo di Canonical? Beh, perché, indovinate un po' in che formato è arrivato il client desktop di Plex per Linux, è arrivato in formato Snap. Ed è quindi liberamente scaricabile dallo Snap Store ed è installabile su Ubuntu e tutte le distribuzioni che supportano tale formato. L'applicazione è in tutto e per tutto uguale alle versioni per Windows e Mac OS, quindi non ci sono stravolgimenti. Ovviamente, come nella tradizione dei pacchetti in formato Snap, dallo Snap Store è possibile installare sia la versione stabile che quella in sviluppo. Buone notizie, quindi, dunque, per tutti gli utenti che attendevano questa versione del client per Linux. E buon segno per tutti quelli che, come me, fanno il tifo per il formato Snap come formato universale che riesce a attirare l'attenzione da parte dei sviluppatori di terze parti per portare le proprie applicazioni su Linux. E la strada è giusta e quindi speriamo, speriamo, incrociamo le dita, che sempre più devono rilacciare in formato Snap. Tra l'altro, notizia che non ho postato sulle pagine di Marcos Box, forse la posterò dopo aver registrato questa puntata, un po' da caschiosa, riguarda la notizia del fatto che gli sviluppatori che stanno mantenendo il pacchetto Snap di Firefox che, come ben saprete, Firefox adesso è installato in formato Snap per impostazione predefinita su Ubuntu, sull'ultima LTS di casa Canonical, beh, gli sviluppatori del pacchetto in formato Snap di Firefox stanno lavorando realmente per rendere sempre più veloce, per ottimizzare sempre di più il pacchetto in modo tale da renderlo più veloce nell'apertura andando così incontro a tutti quegli utenti che si lamentano dei tempi di apertura che effettivamente sono troppo lunghi rispetto a una versione quella, una versione starabile nativamente, quindi questa è l'unica cosa che devono continuare a lavorare gli sviluppatori del formato Snap velocizzare queste benedette applicazioni poi vabbè, se riescono ad alleggerlo ulteriormente, quello sarebbe una grande cosa però, almeno la velocità di esecuzione, quella è una cosa su cui devono premere l'acceleratore per poter, o meglio, l'acceleratore sul piano di sviluppo quindi speriamo, incrociamo le dita anche se, ormai lo so, per esperienza personale, là fuori è pieno di utenti che fanno il tifo contro il formato Snap e non ho capito ancora il perché per me è un formato vale l'altro a me piace sia lo Snap, che il formato Flatpak, che il formato AppImage però, se il formato Snap riesce a tirare maggiori programmatori di terze parti a portare le proprie applicazioni sul mondo Linux ben venga il formato Snap quindi, io faccio il tifo per chi per quel formato, appunto, che riesce a tirare programmatori di terze parti quindi, me ne frega niente se sto Snap, se sto Flatpak, se sto AppImage attualmente Snap è quello che sta portando più programmi di terze parti e, che dire, viva la Snap a sto punto cioè, perché devo dire che è brutto e cattivo solo perché lo sviluppa canonica le solite menate varie passiamo adesso a una notizia che a molti di voi potrebbe non interessare ma a mio avviso è una notizia molto importante da dedicarci giusto qualche minuto perché, secondo me, andrà a influire ad impattare in maniera anche negativa sul progetto Adrian DeGroot, il manutentore principale di Calamares si è dimesso per dedicarsi ad altro per chi non lo conoscesse, Calamares è un installer distro agnostico il cui sviluppo è protocinato da Blue Systems che nel corso degli anni si è fatto apprezzare per la sua solidità, per la sua semplicità e per questo è stato adottato da diverse distribuzioni GNUINUS, come ad esempio Endeavor OS, Manjaro, Debian KOS e decine di altre distribuzioni nel corso di questi ultimi 5 anni Adrian DeGroot ha lavorato attivamente al progetto come stipendiato da parte di Blue Systems e dedicando addirittura 3 giorni alla settimana allo sviluppo del software quindi si dedicava in maniera attiva e molte delle funzionalità sono dovute al suo intervento come stipendiato perché lavorava attivamente al progetto non in maniera robistica e quindi ha portato tanti benefici a questo install beh, Adrian DeGroot adesso ha deciso di mettersi da progetto si dedicherà ad altro ha comunque fatto sapere che saltuariamente collaborerà al progetto come volontario e avrà anche i poteri di manutentore quindi potrà mettere mano al ramo principale dove è stato il codice però non sarà più uno stipendiato a tempo pieno perché è importante questa notizia perché è tempo che anche le varie distribuzioni che hanno adottato Calamares inizino a camminare un po' con le loro gambette fornendo più supporto allo sviluppo di Calamares vedremo nei prossimi mesi che cosa accadrà se ci saranno maggiori contributi da parte delle distribuzioni per Calamares speriamo, speriamo che vada tutto bene concludiamo questo spezzone dedicato alle distribuzioni Linux parlando nuovamente di PopOS System 76 e HP si appressano a lanciare sul mercato un nuovo dispositivo un computer portatiche chiamato HP DevOne un computer portatiche che avrà PopOS come sistema operativo preinstallato e si baserà su hardware AMD l'HP DevOne come lascia presagire il nome ha come target principale gli sviluppatori che cercano una macchina potente e completamente compatibile con Linux quindi va a fare concorrenza diciamo così ai portatili venduti da Dell con Ubuntu preinstallato le specifiche dichiarate di questo nuovo prodotto di questo nuovo portatico dell'HP l'HP DevOne sono un processore AMD Ryzen 7 Pro octa-core 16 GB di memoria RAM DDR4 a 3200 MHz come spazio di archiviazione troviamo un terabyte PCI Express NVMe M2 un display antiriflesso con diagonale da 14 pollici e risoluzione Full HD ovviamente la grafica AMD Radeon integrata e abbiamo anche una chicca che a molti non interesserà però fa capire l'attenzione che ci stanno mettendo in questo prodotto e che il tasto super ci sarà il tasto super a posto del classico tasto con il logo di Windows il prezzo sarà di 1099 dollari e la data di commercializzazione non è ancora stata ufficializzata ma dovrebbe da quel che si è capito arrivare entro la fine del 2022 bella questa notizia speriamo che venga commercializzato anche alle nostre latitudini che sia possibile acquistarlo anche in Italia perché è davvero un prodotto interessante e facciamo il tifo tutti quanti per System76 e per HP che questa collaborazione va di oltre questo prodotto e ci si aspetti un futuro pieno di computer HP con Linux Luca ritorna a scrivere sulle pagine di Marcos Box e lo fa con un editoriale dal titolo la Cina va verso l'indipendenza del software e noi lo spunto dell'editoriale di Luca è basato su una notizia fatta trapegare qualche giorno fa da parte di Bloomberg la Cina, secondo Bloomberg ha intenzione di sostituire tutta quanta l'infrastruttura informatica statale stimata attorno ai 50 milioni di computer quindi tantissimi computer da migrare con soluzioni domestiche stando all'articolo di Bloomberg la scelta per i sistemi operativi caderebbe proprio su Linux e quindi ciao ciao Microsoft Windows in favore di una distribuzione Linux sviluppata ad hoc per i computer della pubblica amministrazione secondo sempre Bloomberg il tutto è stato già pianificato e questa migrazione dovrebbe avvenire nell'arco dei prossimi due anni quindi ormai sempre secondo Bloomberg ormai è fatta non è la prima volta che si sente parlare di un paese non occidentale intenzionato a passare a una soluzione basata su Linux basti pensare ad Astra Linux della Russia Red Star OS che ho recensito fra l'altro qualche anno fa sulle pagine di Microsoft trovate anche la video recensione che fece all'epoca e non è nemmeno la prima volta che la Cina si sente si sentono notizie da parte della Cina a riguardo giusto nel 2019 vi parlavo di un articolo vi avevo passato un articolo dove era stato spiegato che la Cina aveva intenzioni di migrare entro il 2022 tutti i PC della pubblica amministrazione sia verso soluzioni software cinesi ma anche soltanto verso soluzioni hardware cinesi si avete capito bene nel 2019 la Cina era intenzionata anche a utilizzare soltanto computer costruiti da aziende cinesi con componenti fabbricati da aziende cinesi e con sistemi operativi e software cinesi poi sappiamo bene che cosa è successo tra la fine del 2019 e 2020 la pandemia e tutto il resto e quindi molto probabilmente è questo il motivo che ha fatto slittare il piano della Cina di migrare migrare verso verso soluzioni Linux all'epoca addirittura si parlava già di un sistema operativo a distro più gettonato era Kirin la distra sviluppata dagli accademici dell'università nazionale della tecnologia di difesa della repubblica popolare della Cina c'è un nome lunghissimo comunque andatevi a leggere l'articolo di Guca nel suo editoriale perché fa una riflessione paragonando la Cina a noi europei non è secondo voi tempo cioè secondo voi il tempo è maturo per fare una cosa del genere anche in Europa ovviamente nessuno è contro il software commerciale per partito preso però considerate i problemi di sicurezza visto e considerate che la storia ci insegna che nei sistemi operativi e nei software commerciali spesso si ritrovano dei backdoors che vengono utilizzate per poterci spiare leggeramente e io se fossi in Unione Europea inizierai un po' a puntare su queste cose meno gtbr stranzatine varie che ci obbligano a mettere banner sui siti e quant'altro e più sicurezza dal punto di vista informatica in questo caso fatemi sapere anzi fate sapere a Google cosa ne pensate lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox e andate a leggere subito l'editoriale muovetevi adesso concludiamo questa puntata del podcast di Marcosbox con una notizia che ha fatto infuriare molti di voi all'ascolto ma ha fatto infuriare anche me a dire il vero conoscete tutti quanti DuckDuckGo è un motore di ricerca libero indipendente che ha come come feature principale quella di non tracciare gli utenti quindi è rispettosa della privacy degli utenti nel corso degli anni DuckDuckGo è stato adottato anche come motore di ricerca di isolati browser web è stato incluso all'interno di isolati browser web e nel corso degli anni gli sviluppatori di DuckDuckGo hanno anche realizzato delle applicazioni dei browser web per Android per iOS e recentemente anche per Mac e Windows a dire vero l'edizione per Mac è già arrivata in versione B l'edizione per Windows arriverà a breve la caratteristica di questi browser web è che bloccano i tracker dei principali spioni del web come Google Facebook e Microsoft o almeno questo è quello che fino a ieri tutti quanti pensavamo perché il ricercatore specializzato in cyber sicurezza Zack Edwards ha scoperto che mentre DuckDuckGo da un lato blocca regolarmente i tracker di Google e di Facebook dall'altro lato consente ai tracker di Microsoft di continuare a funzionare ebbene sì e che cosa ha scoperto con una serie di test è riuscito a dimostrare come il browser web di DuckDuckGo blocca tutti i tracker e l'accezione di quelli relativi ai domini di Bing e LinkedIn Bing è il motore di ricerca di Microsoft e LinkedIn è il social network dedicato ai lavoratori che è stato acquistato qualche anno fa da Microsoft il tweet di questo ricercatore specializzato in sicurezza e di Edwards e tutta quanta la relativa discussione che si è aperta ha attirato l'attenzione del CEO di DuckDuckGo Gabriele Weinberg che ha vistosi scoperto diciamo così ha rivelato che il browser web consente intenzionalmente il tracker di Microsoft per via di un accordo con Microsoft o un contratto di syndication che lega DuckDuckGo a Microsoft questo contratto tra pariandosi questo accordo è di pubblico dominio e consente a DuckDuckGo di mostrare degli annunci contestuali da parte di Microsoft il comportamento dei click sugli annunci non è associato a un proficutente con la nostra chiave di ricerca quindi dato ricerca sul browser sul web tramite DuckDuckGo siamo diciamo così in un certo senso coperti siamo sicuri che non ci racccia almeno fino a ulteriori smentite quello che non sapevamo però fino ad oggi perché non era scritto sull'accordo di pubblico dominio era che il comportamento riguardante i tracker e la cosa che fa specie che fa pensare come mai DuckDuckGo che noi siamo tutti per la privacy per la trasparenza e quant'altro non ha mai fatto un cenno al riguardo non ha mai detto niente al riguardo sino a quando non è stata scoperta dopo la pubblicazione di questa storia Weinberg di DuckDuckGo ha risposto ai giornalisti di Breaking Computers affermando che stanno comunque lavorando per cercare di rimuovere questa restrizione questa restrizione prevista dal loro raccordo e per essere più più trasparenti e di essere anche più trasparenti nelle descrizioni dei browser web nei relativi app store di Google e di Apple ripeto perché hanno taciuto fino adesso perché non hanno rivelato fino adesso è un comportamento brutto a dire il vero nel corso degli ultimi mesi hanno combinato ne hanno fatto anche altre perché prima hanno bloccato i siti russi poi i siti pirata ma hanno messi nei risultati dei motori di cerca adesso si si scopre questo accordo segreto con Microsoft e con questa con questa cosa c'è 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 ragione il detto la citazione gatina temo gli achiei anche quanto non portano anche quanto portano doni dobbiamo stare sempre con sempre attenti sempre pronti a vigilare per evitare di farci fregare da tante belle chiacchiere che ci vengono propinate riguardo la privacy e quant'altro che poi puntualmente vengono smentite dalle varie aziende abbiamo visto anche il caso con Brave per quanto riguarda il suo comportamento per quanto riguarda gli annunci crypto che venivano mostrati con un referral loro troppe cose troppe cose che non mi piacciono non mi stanno piacendo recentemente se volete un motore di ricerca libero che non legato a Google oppure a Microsoft adesso è rimasto praticamente soltanto Quanto il motore di ricerca europeo francese nella fattispecie che è stato finanziato anche con soldi pubblici europei sperando che Quanto poi non si non faccia non faccia qualche altra porcata anche lì cioè perché a questo punto uno ci viene da pensare se devo utilizzare DuckDuckGo per non essere tracciato ma poi in realtà vengo tracciato in un'altra maniera tanto vale che utilizzo Google almeno Google mi offre mi offre qualcosa per i dati che prende dalle mie ricerche e da quant'altro perché mi offre un servizio che effettivamente funziona mi offre il servizio delle mappe mi offre anche una ricerca che funziona senza senza problemi che mi consente di di arrivare subito al punto di cercare subito le informazioni che mi servono fatemi sapere voi che cosa ne pensate comunque lasciate un commento sulle pagine di Marcosbox se siete rimasti delusi anche voi da parte di DuckDuckGo ma comunque con questa ultima notizia si conclude qui questa 125esima puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo che potete seguirmi sui principali social quindi la pagina facebook il mio profilo twitter ufficiale se mi volete seguire anche su linkedin trovate il mio profilo linkedin personale ma soprattutto vi ricordo che sono presenti sono presente su telegram sono presente con il canale di Marcosbox che potete utilizzare a modo di feed rss se non vi piace i feed rss che comunque ci tengo a sottolineare trovate ancora su Marcosbox perché io sono uno di quelli che amo i feed rss trovate poi la pagina della community di Marcosbox che potete anzi vi invito caldamente a iscrivervi per poter scambiarvi trucchi consigli e quant'altro si parla anche di roba non inerente estrettamente al mondo linux quindi non abbiate timore a iscrivervi non sono soltanto nerd fissati soltanto con linux ma si parla di tutto quindi è concesso è incentivato a parlare di tutto e infine vi ricordo che è presente una pagina telegram dedicata alle offerte di Marcosbox con i link affiliazione Amazon sapete bene come funziona voi acquistate su Amazon utilizzando il mio link referrer di affiliazione che trovate anche scritto sulle pagine di Marcosbox che sarebbe Marcosbox meno 21 e quindi acquistando prodotti su Amazon voi non pagherete nulla in più ma Amazon mi restituirà una certa percentuale che poi mi verrà data sotto forma di buoni sconti che utilizzerò anzi l'ho già utilizzato in passato per andare a sostituire un po' le componenti hardware che sono andate in barca recentemente quindi sapete bene che nel corso degli ultimi mesi il computer monitor tutto e quando mi si è rotto proprio in maniera una congiunzione astrale più unica che rara e attualmente sto avendo anche un bug su Windows non mi odiate utilizzo anche Windows che ogni tanto il suono mi si sente distorto non ho capito ancora perché non lo fa fisso ho paura sia la scheda madre nuova sia la scheda madre nuova che si è fottuto la parte della scheda audio e cioè è il colmo sono tre mesi due mesi cioè c'è una sfiga pazzesca comunque lunga vita e prosperità a tutti quanti e ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao ciao se sentite botte è perché io gestico e do botte comunque ciao ciao